Gentili telespettatori buona giornata oggi si sta discutendo la manovra per il prossimo anno la manovra di bilancio 2020 giorno cruciale per la maggioranza perché i numeri sono così sottili al senato da far tremare conte zingaretti e di maio proprio conte ieri ha detto se oggi qualcosa va male non dovesse passare la la manovra per mancanza di voti io me ne andrei io darei le dimissioni finirebbe lì il governo intanto in discussione il presidente del senato casellati elisabetta comunica all'aula il giudizio di inammissibilità delle norme alla manovra che riguardano la cannabis light la tobin tax che introduceva un'aliquota dello 0,04 su alcuni tipi di transazioni online e lo slettamento da luglio 2020 al primo gennaio 2022 della fine del mercato tutelato per l'energia il no alle norme sulla cannabis light degli uffici di presidenza del senato gli emendamenti sono stati giudicati inammissibili perché estranei alla materia ha scatenato polemiche in aula proteste dai banchi della maggioranza e applausi da parte dell'opposizione lunedì oggi al senato si vota la prima fiducia sulla legge di bilancio la manovra economica i primi verdetti sono però già emersi la norma che dava il via libera alla cannabis light è stata bloccata il provvedimento che era firma del senatore 5 stelle matteo mantero è approvato dalla maggioranza in commissione bilancio del senato è stato stralciato dal maxi emendamento presentato dal governo alla legge di bilancio perché giudicato inammissibile dalla presidente del senato per estraneità di materia dopo la richiesta in tal senso della lega contraria alla norma anche fratelli d'italia la misura prevedeva che la canapa industriale con un contenuto di thc non superiore allo 0,5 per cento non venisse più considerata come una sostanza stupefacente e quindi ne venisse liberalizzata la vendita e produzione intanto casellati blocca questo emendamento che la maggioranza insorge dice è un emendamento di natura ordinamentale e non potrebbe essere diversamente e la casellati dice se ritenete questa misura importante per la maggioranza fatevi un disegno di legge in realtà ha ragione vorrete fare passare questo lo dovete fare con un disegno di legge non lo potete attaccare al voto della finanziaria perché sul voto della finanziaria parecchie cose vengono agganciate in modo che passino con la finanziaria senza dover fare un disegno di legge una votazione solo per quel provvedimento quindi molti emendamenti cioè richieste di modifica alla finanziaria vengono dichiarati inammissibili proprio per estraneità alla materia economica che è la finanziaria e così Matteo Salvini commenta in aula tra gli applausi ci tengo a ringraziare tecnicamente il presidente del senato a nome di tutte le comunità di recupero dalle dipendenze che lavorano in tutta italia e a nome delle famiglie italiane per aver evitato la vergogna dello stato spacciatore di droga prevista in una manovra economica di questo paese e questo proprio Matteo Salvini dopo la dichiarazione di inammissibilità e continua Salvini dicendo ringrazio la presidente del senato casellati perché ha imposto il rispetto delle regole cancellando tra gli altri l'incredibile emendamento che voleva utilizzare la legge di stabilità per introdurre il consumo di cannabis light lo strumento era improprio la decisione era in contrasto con la sentenza della cassazione e rappresentava una palese estraneità di materia il partito della droga rappresentato dal pd e dai grillini è stato severamente sconfitto invece dice poi infine maurizio gasparri di forza italia intanto andrea marcucci presidente del gruppo del pd al senato dice prendo atto di una decisione inappellabile abbiamo bisogno di approvare la legge di bilancio dobbiamo andare avanti coi lavori per il bene del paese rispettando tempi che abbiamo stabilito all'unanimità intanto paola taverna polemizza con Salvini dicendo applausi della lega e destra sono uno schiaffo in faccia alle migliaia di agricoltori che producono canapa industriale ha scritto sui social e i cento membri dell'intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis deputati e senatori di diversi gruppi hanno invitato casellati una lettera chiedendo di ripensare allo stralcio dicendo così la decisione di dichiarare inammissibile la norma già approvata dalla commissione bilancio è gravissima perché l'emendamento era assolutamente attinente alla materia del bilancio rispondendo alle esigenze finanziarie e produttive di un settore che coinvolge migliaia di produttori e di lavoratori a casellati finiscono chiedendo fermamente di rivedere il suo giudizio a salvaguardare l'imparzialità che deve essere propria della seconda carica dello stato quindi praticamente stanno accusando la casellati di essere a favore dell'opposizione quindi contro il governo gli chiedono di essere imparziale di rivedere le sue decisioni ovviamente con una lettera del genere la casellati non la leggerà neanche c'è modo e modo di dire le cose sicuramente in questo modo questa lettera è fiato sprecato perché accusando una persona di essere non imparziale ovviamente non non ottenete assolutamente nulla con l'insulto non si ottiene nulla intanto vengono eliminati anche la la top in tax sulla transazione finanziaria online e lo slittamento da luglio dal 2020 al primo gennaio del 2022 della fine del mercato tutelato per l'energia tra le altre norme che non hanno superato il vaglio degli uffici di presidenza del senato anche i provvedimenti in materia di commissioni straordinari sul personale delle province sulle modifiche al decreto sblocca italia su modifiche alla legge della concorrenza banche credito cooperativo informatizzazione inail agenda digitale della pubblica amministrazione e ministero della giustizia intanto la ragioneria dello stato chiede 70 trova 70 anomalie e ne chiede la correzione e modifiche tra queste 39 misure sotto la lente per le coperture anche il ripristino dello sconto in fattura per eco e simabonus per i condomini mentre si chiede lo stralcio della sospensione del reddito di cittadinanza in caso di lavori brevi e dell'estensione ai pediatri dei fondi per avere macchinari per gli esami in studio a queste si aggiunge la richiesta di correzione definitiva di drafting per le altre 29 norme quindi la commissione bilancio del senato visto queste modifiche chieste dalla ragioneria dovrà proporre anche un maxi emendamento corretto per modificare tutte queste anomalie che hanno trovato perché è obbligatorio modificarle visto che la ragioneria ha detto sono da modificare compresi gli stralci chiesti dalla presidenza di palazzo madama e annunciati in assemblea della presidente elisabetta casellati annuncio dato dalla presidente della commissione bilancio daniele pesco a margine dei lavori di modifica del decreto legge bilancio ddl bilancio i rilievi sono stati già recepiti compresi gli stralci spiega il presidente alcuni dei rilievi della ragioneria generale dello stato coincidono con quelli della presidenza del senato ad esempio sulla tobin tax altre invece incidono sulla scrittura o sulle coperture di altre norme nel caso della sospensione anziché la decadenza del reddito di cittadinanza quando i beneficiari trovino un lavoro a tempo determinato nella relazione dei tecnici si legge che la norma comporta maggiori oneri non quantificati né coperti e che la relazione tecnica pervenuta e incongrua e inadeguata per questo motivo la ragioneria chiede lo stralcio della norma idem per i pediatri adesso la discussione è in parlamento ci sarà la votazione con molta probabilità passerà perché in parlamento i numeri della maggioranza sono molto molto più ampi si parla di 40 più di 40 persone in più oltre il minimo per avere la maggioranza mentre in senato voi sapete che con tutte le defezioni dei senatori il margine operativo della maggioranza era sceso da 10 senatori in più a 6 senatori in più e forse meno si parla solo di 4 senatori in più quindi la maggioranza è appesa a quattro persone che potrebbero cambiare casacca improvvisamente oggi o dopo l'approvazione della finanziaria perché si presume che nessuno cambi ormai casacca proprio oggi all'approvazione della finanziaria ma probabilmente da domani in poi molti potrebbero cambiare partito e così il governo non avrebbe più i numeri minimi per poter proseguire e conte dovrebbe dare le dimissioni e proprio per questo che conte e di maio sono nervosi e continuano a chiedere ai senatori grillini in fuga di ripensarci che con salvini non governeranno mai o comunque ci vorranno anni prima di governare io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare siamo anche in facebook nella pagina tele italia notizie dove trovate tutti gli stessi video presenti in youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buona giornata arrivederci